Ciao e benvenuto in Camperis. Nel video di oggi vediamo un semi integrale per 5 persone, il Carado T334. Questo è un camper adatto a te se stai cercando un semi integrale per 5 persone con una lunghezza contenuta nei 7 metri, con un ottimo rapporto qualità prezzo e con la qualità e le soluzioni tecniche tipiche dei camper tedeschi. Il camper ha una dinetta anteriore avanzata con panca contrapposta e due sedili anteriori girevoli che consentono a 5 persone di sedere comodamente. Il tavolo della dinette può essere abbassato per ricavare il quinto posto letto. Nella zona giorno puoi trovare anche vani dedicati allo stivaggio, in particolare è presente una corona di pensili. Sopra la dinette c'è un letto matrimoniale comodo per due persone. L'apertura del letto basculante è manuale ma comunque molto semplice senza sforzi grazie alla presenza di un meccanismo che facilita l'apertura e la chiusura del letto. La cucina è ad L ed è situata di fronte alla porta di uscita. È composta da un lavandino, tre fuochi e cassetti per le stoviglie con porta posate, divisori ed una pattumiera. Di fronte alla cucina puoi trovare un frigo da 167 litri con uno scomparto freezer da 29 litri. Il WC e la doccia sono collocati in due vani separati, entrambi situati nella zona notte. Questa disposizione vi permette di utilizzare contemporaneamente il bagno e la doccia e quindi di risparmiare tempo quando vi state preparando per uscire. La zona notte e la zona giorno sono separabili utilizzando la porta del bagno che ti consente di vivere la zona giorno senza disturbare chi si vuole concedere qualche altra ora di sogno. Nella parte posteriore puoi trovare un comodo letto trasversale per due persone. Sopra al letto è presente una corona di pensili per lo stivaggio. Inoltre puoi trovare due armadi a tutta altezza di fianco al bagno e alla doccia. Questo modello è alto 2,91 metri e largo 2,33 metri. La lunghezza del veicolo è 6,99 metri. I rivestimenti esterni del tetto e della parete posteriore sono in vetro resina e le pareti laterali sono in lamiera liscia di alluminio. Anche le bandellature sono in alluminio. Questo veicolo presenta la tipica costruzione tedesca. Sono assenti le siliconature esterne a vista che necessitano di manutenzione. I letti di questo camper sono spaziosi. C'è anche tanto spazio per lo stivaggio grazie alla presenza di molti vani. Oltre ai pensili presenti nella zona giorno e nella zona notte puoi trovare due ampi armadi a tutta altezza. C'è molto spazio per lo stivaggio anche nelle garage posteriore, utilizzabile per lo stivaggio di sedie, tavolini e tutto ciò che ti è più utile se sei un amante dello sport. Infatti c'è abbastanza spazio per stivare per esempio biciclette, mazze da golf o equipaggiamenti per l'equitazione. Puoi accedere a questo garage grazie alla presenza di due sportelloni. I profilati Carado sono compatti, chic, aerodinamici, ma soprattutto estremamente affidabili. La focalizzazione di Carado è proprio sull'affidabilità più che sui materiali, nonostante utilizzi comunque materiali molto pregiati. I veicoli Carado presentano poi il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato, offrono la costruzione e qualità tedesca ad un prezzo relativamente contenuto. Questo modello è coibentato internamente anche per l'uso invernale ed è dotato di una stufa truma combi 6 che ti permette di utilizzarlo anche d'inverno e a temperature sotto zero. Forse l'unico difetto di questo veicolo potrebbe essere il letto basculante, il quale una volta aperto riduce la vivibilità della zona giorno e ostruisce parzialmente l'ingresso. Sì, sicuramente ti consiglio questo veicolo se ami profilati e vuoi avere 5 posti letto comodi e ampia vivibilità. Te lo consiglio se cerchi un veicolo affidabile e di qualità ad un prezzo relativamente contenuto. Vediamo ora le dotazioni. Aria condizionata in cabina, doppio airbag, traction plus, cruise control, cerchi in lega, zanzariera alla porta e a tutte le finestre. Questo veicolo offre tanto altro ancora. Per visionare la scheda completa e per conoscere tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Non dimenticarti di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook e iscriverti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo Camperis. Quello che abbiamo appena visto è uno dei tanti veicoli presenti sui piazzali di Camperis. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili o per saperne di più visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli vieni nelle nostre sedi Camperis dove sarai assistito da specialisti sempre pronti a consigliarti un veicolo più adatto a te. Ti aspettiamo!